Hola ragazzi, come avrete sicuramente letto nella mia bio, io collaboro con il network Art Special Day e quindi ho deciso di fare questo video per introdurvi il mio ultimo articolo in cui parlo dell'artigianato italiano un'eccellenza che si basa sulla tradizione, la creatività e la manualità dei nostri maestri artigiani che hanno reso l'Italia il paese che è celebre in tutto il mondo e apprezzato in tutto il mondo per i suoi prodotti di altissima qualità artigianale vi lascio in descrizione il link del mio ultimo articolo e anche il link con tutti gli articoli che sono stati pubblicati fino ad ora su Art Special Day mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video